Dietro l'abbigliamento firmato, la complessità dell'identità personale L'affermazione è sotto un abito firmato, non sempre troverai una persona di marca e è un richiamo profondo alla complessità dell'identità umana. Spesso, tendiamo a giudicare gli altri basandoci sull'aspetto esteriore, ma la realtà è molto più sfaccettata. In questo articolo psicologico, esploreremo il concetto di identità personale, l'importanza di andare oltre le apparenze e come l'abbigliamento possa spesso nascondere la vera essenza di una persona. L'identità personale, oltre l'apparenza L'identità di una persona è un amalgama di esperienze, valori, convinzioni e sfumature uniche che la compongono. Spesso, ciò che vediamo all'esterno, come l'abbigliamento, è solo una piccola parte di questa complessità. L'identità va oltre le etichette superficiali e riflette chi siamo veramente. L'abbigliamento come maschera sociale L'abbigliamento di marca, sebbene possa essere un segno di status o di gusto personale, può anche fungere da maschera sociale. Le persone possono indossare abiti costosi per adattarsi a un certo ambiente o per cercare di impressionare gli altri. Questo non riflette necessariamente la loro vera personalità o le loro intenzioni. La tendenza a giudicare La psicologia ci insegna che tendiamo a giudicare gli altri basandoci sulle prime impressioni e sull'aspetto esteriore. Questo può portarci a trarre conclusioni affrettate sulle persone senza conoscere veramente chi sono. È un comportamento comune, ma è importante riconoscerlo e cercare di andare oltre le apparenze. L'importanza della conoscenza profonda Per veramente comprendere una persona, dobbiamo andare oltre l'abbigliamento di superficie e cercare di conoscerne le esperienze, i valori e le passioni. Questo richiede empatia, apertura mentale e una volontà di approfondire le relazioni. Conclusioni Oltre l'abbigliamento L'identità personale è una realtà complessa che va oltre ciò che si vede dall'esterno. L'abbigliamento di marca può essere un'arma a doppio taglio, nascondendo la vera essenza di una persona o creando una falsa impressione. Come individui, dobbiamo cercare di andare oltre le apparenze e di valutare gli altri in base alla loro autenticità e alle loro azioni. Questo approccio non solo migliora le nostre relazioni, ma ci aiuta anche a comprendere meglio la ricchezza della diversità umana. In un mondo in cui l'apparenza può ingannare, la vera è persona di marca e è quella che è autentica, compassionevole e genuina.